Grazie a me come Presidente del Gruppo della Camera, visto che svolgiamo questa conferenza alla Camera, solo l'onore di dare il benvenuto agli amici pugliesi che oggi intervengono qui, il nostro capogruppo in Europa, l'ECR, Raffaele Fitto, agli amici deputati Donzelli che non è come me pugliese ma è responsabile di organizzazione del partito, all'amico Galantino invece è un deputato pugliese che da poco ha portato al gruppo di Fratelli d'Italia ribellandosi alla deriva a sinistra del Movimento 5 Stelle, l'amico Gemmato che con me condivide l'esperienza parlamentare e rappresenta Fratelli d'Italia dall'inizio in Puglia. Oggi diamo benvenuto a una serie di consiglieri regionali che insieme a Direzione Italia aderiscono a Fratelli d'Italia e creano un gruppo ben numeroso in Regione, quindi a Francesco Vento, a Luigi Manca, a Renato Parrini, a Gian Nicola De Leonardis che insieme a Congedo, il nostro coordinatore regionale vanno a formare il gruppo e ovviamente a Ignazio Zullo che lo guiderà. So che non avete ancora formalizzato questa cosa ma ho indagato per sapere chi avrebbe preso il gruppo e mi giunge questa buona notizia. Quindi un ringraziamento a loro per la scelta che hanno fatto perché hanno condotto in questi anni l'opposizione nella Regione Puglia, saluto anche Amoruso che è stato deputato e oggi è il nostro dirigente in Puglia, ma si preparano ovviamente a una stagione di governo. Quindi in bocca al lupo a tutti, grazie di aver scelto Fratelli d'Italia per continuare questo percorso politico. Il nostro Movimento ha avuto un risultato brillantissimo alle elezioni europee dove erano candidati Raffaele Fitto che è stato eletto e Marcello Gemmato che pur facendo una candidatura di servizio ha ottenuto un ottimo risultato. Insomma le premesse per battere l'attuale governatore ci sono tutti. Oggi parte la sfida di Fratelli d'Italia per invece raggiungere un risultato che deve essere almeno il doppio di quello appena raggiunto in Umbria che segna già le due cifre. Quindi in bocca al lupo e grazie del buon lavoro. Grazie all'onorevole Francesco Lollobrigia per questa opportunità che ci dà di tenere quella conferenza stampa qui in questa sala, in quest'aula, quindi dando una grande solennità ad un evento importante. Saluto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione del partito, saluto i neoparlamentari fratelli d'Italia, saluto quelli che con tutti noi hanno condiviso questo percorso e quindi i due componenti dell'esercito nazionale, l'europarlamentare Raffaele Fitto e Marcello Gemmato che ovviamente non hanno bisogno di presentazione. Un saluto particolare va ai colleghi che oggi ufficializzano l'adesione al gruppo regionale di Fratelli d'Italia e quindi al partito di Fratelli d'Italia. Parto da Francesco Aventola che è il mio omologo di direzione Italia, lo sarà ancora per poco perché la direzione di direzione Italia sparirà dai nostri comunicati. Passando a Ignazio Zullo, capogruppo di direzione Italia, agli amici Giannicola Deleonardi, Luigi Manca e Renato Perri. È un momento importante che parte da Atreio 2018 quando con una straordinaria intuizione Giorgia Meloni decise di aprire il partito a nuove esperienze e a nuove culture. Il primo a raccogliere questo invito e a capire anche la lungimiranza del progetto politico fu Raffaele Fitto con il suo gruppo di direzione Italia e all'epoca già uno dei massimi riferimenti dell'Eurogruppo ECR all'Europarlamento. Da allora abbiamo lavorato sul territorio a stretto contatto, direi a gomito a gomito, per far sì che quella intuizione straordinaria di Giorgia Meloni si concretizzasse in un progetto politico vero e proprio. Non era, diciamo, semplice, perché è stato un passaggio abbastanza complesso, perché non era l'adesione di un singolo esponente autorevole come Raffaele Fitto a Fratelli Italia, ma si trattava di mettere insieme due veri e propri partiti. Con Francesco abbiamo, siamo rimboccati le maniche, abbiamo lavorato molto e oggi questo, la confluenza del gruppo regionale Fratelli d'Italia. L'adesione dei colleghi e soprattutto amici Fratelli Italia suggella questo percorso. Non è l'unico, poi saranno, diciamo, sarà anche sul territorio, ci saranno altri passaggi di questo genere, ma ovviamente un gruppo regionale, quindi i rappresentanti della massima assise del territorio confluiscono in Fratelli Italia, è un momento che meritava di essere sottolineato. Faccio una votazione. Fratelli Italia, che come ha ricordato, Francesco Lollobrigge era rappresentato solamente da me in Consiglio regionale, oggi diventa un gruppo di sei. Il primo gruppo del centrodestra in Consiglio regionale, il terzo gruppo in assoluto dopo il Partito Democratico, che comunque ha usufruito il primo in maggioranza avendo vinto le elezioni, e il gruppo dei Cinque Stelle che ha in qualche modo goduto di quella bolla elettorale che l'ha portata anche nelle precedenti elezioni a avere risultati importanti. Questo gruppo si pone anche un altro obiettivo, non solamente quello di formalizzare, concretizzare, attuare il progetto politico di Giorgio Amellone su tutto il territorio, ma anche di affrontare nel miglior modo possibile un appuntamento importante che è quello delle regionali del 2020. Come ho già detto a molti di voi, Fratelli Italia è pronta ad assumersi responsabilità importanti, è pronta a dare il proprio contributo al centrodestra perché dopo 15 anni di governo di centrosinistra, i 10 di Nichi Vendola e forse quelli ancora peggiori successivi del mandato di Emiliano, quindi altri 5, per voltare finalmente pagina, restituire alla Puglia la sua maggioranza naturale che è una maggioranza di centrodestra e soprattutto restituire ai pugliesi un buon governo che il centrodestra ha assicurato fin quanto ha governato e amministrato la regione Puglia. Io mi fermerei qui per dare la possibilità a tutti di intervenire. darei la parola a questo punto a Giovanni, no chiudi, allora facciamo chiudere i più importanti, quindi la parola a Francesco Vendola, coordinatore regionale di direzione Italia, ancora per poco, poi darei la parola al capogruppo, poi a Raffaele e farei chiudere il nostro responsabile di organizzazione Giovanni Donzelli. Grazie Marcello. Oggi aggiungiamo un altro tassello fondamentale in questo percorso di confluenza che come ben ricordava prima Erio è già venuto con il messaggio che il nostro leader Giorgia Meloni lanciò nel 2018 ad Atreo. L'abbiamo accolto con non assolutamente nessun tipo di difficoltà perché il nostro movimento nazionale ispirato da Raffaele Fitto è sempre stato nel centrodestra. Non abbiamo mai fatto accordi col PD, mai accordi del Movimento 5 Stelle, anche in una regione come la Puglia che da 15 anni è disamministrata dal centro-sinistra. Per cui veramente un approccio che abbiamo avuto con Fratelli d'Italia molto positivo e su base valoriale ma soprattutto per quello che è il progetto politico. La coerenza e la lealtà hanno testimoniato negli anni il nostro interesse e il nostro impegno in politica. Qua ci sono consiglieri regionali che fanno altro nella vita. Nessuno vive di politica ma che ci siamo impegnati con tutte le nostre esperienze prima da consiglieri comunali, da sindaci, presidenti di provincia e anche in consiglio regionale che mai hanno ascoltato le chimere sul territorio da chi con il ruolo di amministratore pubblico di maggioranza come il presidente Emiliano ed altri hanno tentato in questi anni campagne acquisti. Da noi campagne acquisti non se ne fanno. Il nostro datore di lavoro è il cittadino elettore. A lui abbiamo dovuto dare il massimo rispetto e continuiamo nella nostra lealtà e nella nostra coerenza. Principi ispiratori del nostro leader Raffaele Fitto che ha condiviso con noi questo percorso e oggi già da ora possiamo finalmente anche cambiare i nostri simboli. In Puglia non c'è più Direzione Italia, siamo tutti confluiti all'interno di Fratelli d'Italia, l'organizzazione del partito prosegue in maniera molto celere e anche con tantissime condivisioni su base territoriale e questa è la soddisfazione più bella. Vedere chi ci sostiene da anni, dai cittadini a coloro che sono impegnati in prima linea, condividere un percorso fatto di lealtà e di coerenza. Grazie. Grazie Erio, io voglio partire dai ringraziamenti. Ringrazio Raffaele Fitto per la scelta che ha fatto nel 2018 perché nell'ambito della sua guida politica ci ha ricondotto in un albio che per noi è naturale, perché siamo stati sempre dentro questo perimetro, come diceva l'amico Francesco, e quindi ci ritroviamo in una storia che ci appartiene. Ringraziamento anche ai parlamentari che ci hanno accolto in quest'Aula perché è importante soprattutto per me che devo guidare i temi della politica regionale, avere il contatto diretto con i parlamentari diventa importante per trovare sinergie di politiche attive sia a livello nazionale che a livello regionale. Ringrazio anche i colleghi che hanno voluto che io potessi guidare questo gruppo e soprattutto lasciatemi esprimere l'orgoglio, l'orgoglio di essere qui, sono orgoglioso di appartenere a questo gruppo, a questo partito e io penso che potremmo fare molto, soprattutto in un momento in cui c'è veramente bisogno di rivoluzionare la Puglia, rovesciare come un calzino tutte le politiche e le scelte attuate dalla maggioranza di Emiliano. Ce la metteremo tutta, ma io sono convinto che facendo squadra, facendo sinergia ce la faremo. In bocca al lupo a tutti e grazie ancora di cuore per tutto quello che sta avvenendo questa mattina. La parola a Marcello e poi a Raffaele. Volevo spendere un ringraziamento a loro che sono stati... Sì, brevemente, per non essere ridondante rispetto alle considerazioni fatte dai colleghi e che ovviamente mi trovano d'accordo. Io soltanto vorrei fare e condividere con voi una riflessione. Oggi probabilmente si realizza ciò, e qui vedo Francesco Amoruso che penso essere l'interprete autentico in Puglia del pensiero di Pinuccio Tatarella. Ciò che Tatarella aveva immaginato, quindi la costruzione di un popolo aereoso che raggruppava tutto ciò che non era di sinistra. Oggi io riconosco sinceramente il fatto che due forze che avevano e hanno l'idem sentire, che è quello appunto di non aver mai concorrenza derogato alla linea del centro-destra, si ritrovano naturalmente insieme. Perché nel percorso politico, e parlo soprattutto del percorso politico pugliese, noi abbiamo assistito negli ultimi mesi, negli ultimi anni, a spostamenti importanti di pezzi di centro-destra che sono stati letteralmente acquistati, talvolta anche a basso prezzo, da parte del Governatore Emiliano. Noi invece, e questo ne va dato atto a Raffaele Fitto e al suo gruppo, abbiamo con noi persone che hanno mantenuto la barra dritta anche quando il periodo non era positivo, anche quando c'era un'enorme difficoltà nel rimanere in questa metà campo. Allora l'idem sentire ci ha portati naturalmente a stare insieme. Io sono convinto del fatto che da questo gruppo possa partire la riscossa per riprendere la Regione Puglia. Perché noi abbiamo visto che in Umbria è stata premiata la coerenza, soprattutto la coerenza di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, perché sommessamente ricordo che siamo l'unico partito che è cresciuto rispetto al dato delle precedenti europee. E immagino che in Puglia questa coerenza del gruppo di Fitto, del gruppo di Fratelli d'Italia, che ora diventano un unicum, sarà premiato dagli elettori e porterà di nuovo il centrodestra, ritornando appunto all'idea di Pinuccio Tattarella, di quel centrodestra di governo e vincente, ritornerà a governare la Regione Puglia, immagino con una persona espressione di questo gruppo e di questa comunità politica. Sì, voglio aggiungere molto poco perché sono già state dette le cose essenziali e fondamentali. Quando ad Atreio a settembre del 2018 Giorgia Meloni lanciò l'appello di allargamento del progetto politico di Fratelli d'Italia, io l'ho condiviso come è stato ricordato subito perché ero assolutamente convinto della grande prospettiva che si stava per aprire. In quella fase la prospettiva non c'era nei numeri, però dal mio punto di vista c'era nello spazio politico e della coerenza di quel messaggio. Oggi ritrovo quelle parole in una sintesi perfetta perché proprio oggi in un'intervista, se non sbaglio, sul messaggero, Giorgia Meloni parla del percorso di allargamento e crescita di Fratelli d'Italia utilizzando questo riferimento aperto, aprirci senza perderci, nel senso che la necessità di allargare i confini e le modalità di crescita di questo partito non perdendo quello che è il profilo identitario, la storia, un percorso che certamente è un punto fondamentale per i risultati raggiunti. Dico queste cose perché? Perché gli scorsi mesi durante le elezioni europee ho ascoltato molte critiche su quello che stavamo facendo. È un accordo elettorale, lo fanno solo per poter affrontare questo momento delle elezioni, non c'è un minimo di credibilità in quello che viene fatto. Siccome la linea di fondo che sulle posizioni politiche nel rapporto con gli altri ma anche nella posizione di credibilità personale sta sempre in quello che si fa. Noi in quella campagna elettorale delle elezioni europee spiegammo che la candidatura era l'inizio di un percorso, il completamento di quel percorso era l'ingresso definitivo e il ruolo dentro una dimensione che era quella di Fratelli d'Italia. Oggi siamo qui per testimoniare il completamento di questa fase, qualche mese è necessario per limare alcuni dettagli di carattere organizzativo, qualcosa sarà necessario ancora a dedicarla nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ma certamente abbiamo tutte le condizioni per costruire una grande forza politica che a partire dal nostro territorio possa rappresentare realmente una opportunità di una prospettiva seria. Ci sono le condizioni per ambire come durante la fase preparatoria delle elezioni europee, ci rappresentavano il mostro e la soglia di sbarramento del 4% come insuperabile e tutti auspicavano i vari commentatori che noi saremmo caduti su quella soglia di sbarramento abbondantemente superata. Oggi mi sembra che noi dobbiamo non porci dei limiti, lo voglio dire molto serenamente senza alcun tipo di presunzione. Abbiamo le condizioni per crescere e di crescere molto. C'è un leader che sta interpretando perfettamente questa azione che appunto è Giorgia Meloni, c'è un progetto politico che è fatto di valori, di contenuti e c'è anche, io dico, uno spazio molto importante che abbiamo solo la necessità di coprire realmente con la nostra iniziativa politica e con la capacità di incidere realmente rispetto ad un elettorato che dimostra e testimonia, l'Umbria ne è una conferma evidente, una attenzione concreta verso questa crescita e verso questo progetto. Quindi al di là delle considerazioni ovvie e formali della conferenza stampa di oggi, io penso che sia molto importante metterci a lavorare su quelli che sono i prossimi appuntamenti elettorali dentro questa dimensione che, e chiudo su questo, io ho l'onore di rappresentare a livello europeo in un spazio, quello del gruppo europeo dei conservatori, che certamente dà un contributo anche esso importante a quello che è il percorso di crescita e l'evoluzione alla quale tutti quanti stiamo dando il nostro contributo. Grazie a voi, è ovviamente un momento importante, ci sto lo stesso, non ti preoccupare, è un momento importante ma che come avete già detto è un percorso nato da oltre un anno, un percorso che ha portato i suoi frutti non soltanto elettorali ma anche dal punto di vista di posizionamento politico, è nata così l'adesione tramite anche il rapporto con Raffaele e l'adesione ai conservatori che è un risultato importante a livello internazionale non solo per Fratelli Italia ma diciamo per la famiglia dei conservatori europei, tant'è vero che il ruolo che è stato riconosciuto a Raffaele a livello europeo è un ruolo importante e che ci ha gratificato a tutti. Ovviamente è un risultato quello di oggi da cui partire per la sfida per la Puglia, sfida in cui Fratelli Italia ha tutta l'intenzione di giocare un ruolo da protagonista da tutti i punti di vista, siamo pronti, una sfida che vuole riportare il buon governo in Puglia, una sfida che ovviamente ci emoziona ma ci troverà pronti e quindi questo è solo un primo passaggio, oggi siamo a questo punto il terzo gruppo in Consiglio regionale dopo questo passaggio, il primo del centro-destra ma ovviamente il nostro obiettivo è diventare il primo gruppo di tutto il Consiglio regionale fra qualche mese governando la regione, quindi in bocca al lupo a tutte le nuove adesioni, in bocca al lupo a tutti i ragazzi sul territorio, giovani e meno giovani che adesso stanno costruendo quindi la rete di partito così allargata è un impegno che ci darà la possibilità di vedere tutti i protagonisti, tutti in prima fila perché adesso c'è spazio per tutti per provare davvero a cambiare la Puglia come è successo ieri in Umbria e come accadrà anche nelle altre regioni italiane. Sì, consiglieri regionali, quindi il terzo gruppo in regione, adesso il nostro obiettivo è quello di far sì che questi numeri vengano confermati e aumentati con le prossime elezioni regionali, già le elezioni europee abbiamo preso il 9% in Puglia, quindi è un risultato che visto che il cantiere era ancora nella fase iniziale si avvicina ai numeri importanti di questi giorni, quindi se tanto mi dà tanto senza eccedere nell'ottimismo ma con sano realismo puntiamo sicuramente, dato il momento favorevole che accompagnerà sempre di più il lavoro che noi facciamo sul territorio, se mettiamo insieme il messaggio positivo, la crescita di Fevelli d'Italia, l'interesse, l'attenzione, il consenso che c'è intorno alla leadership di Giorgia Meloni, lo inseriamo in un partito che si sta strutturando e organizzando molto bene sul territorio, siamo convinti di poter ambire a un risultato molto più importante, poi vedremo quello che accadrà, però ecco ci sono tutte le condizioni per fare dei risultati molto molto importanti e positivi. Grazie. Eravamo solo alleanza nazionale, Raffaele Fitto era altrove ed era anche altrettanto forte, quindi non ci poliamo limiti, ecco com'è. E' un buono. E' un buon affagione, con una buona affagione di governo, perché erano superiori sulle alleanze nazionali, erano contro il governo, non solamente a livello regionale, ma anche a livello territorio, e viaggiavano. Grazie. 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 Mi permetto di dire una cifra, semplicemente. In Umbria, senza l'ingresso così importante, senza un'operazione politica così forte, rispetto all'europea abbiamo raddoppiato i voti. Quindi, se all'europea avevamo il 9 e non c'era Fitto e tutto questo bel gruppo, in teoria, se tanto mi dà tanto, la proporzione può essere questa. Grazie. 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 Grazie.